Giornata di presentazioni al Frosinone. Caio Jorge, Solé e Lirola sono intervenuti in conferenza stampa dopo il loro arrivo in questi giorni. Il brasiliano e l argentino sono arrivati in prestito dalla Juventus. Mentre l'ex bianconero era o l'elce in prestito dal Marsiglia lo scorso anno. Tre ingressi importanti che possono portare freschezza, qualità ed esperienza alla squadra allenata da mister Di Francesco. Il Frosinone ha iniziato a lavorare in questi giorni per portare altri tasselli e completare la rosa come ha ribadito prima Angelozzi e poi il presidente Stirpe nelle ultime interviste. Il trasferimento il mercato non è ancora finito ma intanto i ciociari stanno portando a casa giovani importanti. Solé e Gatti mi ha consigliato di venire qui nuova occasione per Mattias Solé dopo una stagione con la maglia della Juventus. Nuovi stimoli e un progetto diverso avevo parlato con l'allenatore di Francesco. Mi ha interessato subito il progetto sportivo e la voglia di giocare. La fiducia che l'allenatore ha riposto capisco tutte queste cose mi hanno spinto a venire al Frosinone. Ricevevo da tempo questa proposta. Avevo già in mente il Frosinone anche per le parole del direttore Angelozzi. Sono molto felice di poter essere qui. Per poter giocare e imparare. Voglio dimostrare il mio valore e qui voglio fare di tutto per restare in Serie A. Ho tanti aspetti da migliorare e sono sicuro che l'allenatore mi aiuterà a riempire il reparto. Tecnico tattico di vario per raggiungere la vetta. I consigli Barrenecea e le parole di Gatti. Parlando con Barrenecea e Caio abbiamo parlato. Dell'importanza fare amicizia in gruppo. Lo avevo chiesto a Enzo quando ci ha preceduto e lui subito mi ha detto che si è sentito subito in famiglia. Ed è proprio quello che ho trovato quando sono arrivato. Abbiamo parlato con Gattone. Mi ha detto che venendo qui avrei potuto crescere molto in un ambiente sano e che avrei trovato un'ottima società e un ottimo allenatore. Sull'idolo ne avevo uno quando ero piccolo. Della squadra che tifavo. E poi Messi. Il più forte di tutti. In chiusura. Un gesto scaramantico e altri sportivi entro in campo con il piede destro. E poi cerco di ricordare cosa abbiamo fatto nella partita vinta. Quindi speriamo di fare lo spesso. Sport preferito? Mi piacciono molto il tennis e il padel. Caio Jorge. L'infortunio e i gol del Frosinone.